Appena lo incontri, digli di telefonarmi. Lisa insiste finché non ottiene ciò che vuole. Dopo che sono tornati, sono andati a letto. Quando hai telefonato, lei era già uscita. Prima che te lo dica Luigi, te lo dico io. Non te ne vai finché non assaggi la torta. Quando decidete di uscire, avvisatemi. Non passi l'esame finché non ti impegni. Dopo che è uscita di casa, ha visto un'auto. Si è addormentato prima che il film finisse. Appena ha finito di cenare, ha bevuto un tè. Quando arriva l'estate, vado in vacanza. Ho studiato finché non ho capito tutto. Dopo che ho fatto la spesa, ho cucinato. Ho studiato finché non ho capito tutto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.